Cristina Chiabotto e Fabio Fulco Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, amore al capolinea dopo 12 anni, lui si è stufato di aspettarla…. Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, le strade si dividono. Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, la love story è finita. Dopo 12 anni di amore, l'ex Miss Italia 31enne e l'attore 47enne hanno preso strade diverse . Il colpo di fulmine poi…. Il colpo di fulmine tra Cristina e Fabio era scoccato alla seconda edizione di Ballando con le stelle correva l'anno 2005. . Da allora su di loro, nessun gossip, poche foto social insieme e tanti dichiarazioni di lei, sempre dello stesso penore, non mi sento pronta per il matrimonio e per fare la mamma, il succo. . Nell'ultima intervista al settimanale Oggi, la reginetta di bellezza 2004 aveva ribadito, sì, un figlio è un desiderio forte per lui, più del matrimonio. E anch'io sogno di diventare madre prima o poi, ma ho tempi diversi. . Dopo aver vinto Miss Italia la mia vita ha subito un'accelerazione, è successo tutto di corsa, e io sento che ho voglia di rubare ancora un po' di tempo per me stessa. . Io messo da parte, la verità è che dentro di me non sento ancora quell'esigenza, non è scattato il click, aveva aggiunto a Oggi. E non dite che è perché ho dei dubbi, non è così. . Fabio è l'uomo giusto ma non sono pronta. . E non ho fretta. . Lui, però, deve averne avvertito un po' di più. . Secondo quanto riportato da Spy, Fulco avrebbe confidato agli amici di essere stato messo da parte e di non essere al centro delle priorità di Cristina che, sempre a suo dire, non avrebbe lottato per salvare il loro amore e quell'idea di progetto comune che si chiama matrimonio. . . Da eterni fidanzati a single di ritorno. . 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